Ma che tortuosa infezione! Che favolosi pustoli infettivi! Ma che bellissima moria di gente! E un plauso va fatto all'Isis, che non mi pento di definire peggiorante! Concordo, commentatore. Generale. Mi scusi. Ma posso notare in lei che non ha ancora contratto l'Ebola? Eh sì, purtroppo non sono potuto andare in Sierra Leone per contrarla e quindi ancora non ho questa moda di malattia. Mi dispiace deluderla, signor commentatore. Generale. Mi scusi, ma io la sono riuscito a contrarre grazie ad un metodo innovativo che te la porta a casa. Addirittura? E che metodo è? Ebolact! Ebolact! Dai migliori focolai della Sierra Leone arriva... Ebolact, il modo più comodo di prendere l'Ebola a casa tua! Molto. Buonasera. E volevo sapere che è per il telefono la vorrà della Sierra Leone. Grazie a voi. Grazie. Grazie.